Siete? Siete? Stai? Vai, cominciate avanti. Pronti? Vai! Voi! Vai, Mario! Passi! Dai! Adattati! Muoto Mario! Vai, vedi il ginocchio! Vai, Mario! Ti voglio andare a schiato! Anche ora! Dai Mario! Vai adesso! Vai a prendire! Vai a prendire! Vai adesso! Oh, vai adesso! Morcia! Andiamo! Vai! Controla tu! Controla tu! Vieni il solo! Vieni il solo! Vieni il solo! Vieni il solo! Vieni la mano! Vieni la mano! Dai la calza! Mario! Dai! Dai! Fai tenda! Fai tenda! Buono! Dai Mario! Dai! Dai Mario! Andiamo in pausa! Dai Mario! Andiamo in pausa! Vieni la macchina! Comincia a prendere il posto! Un po' Vieni il posto! Vanno sul viso! Restate che c'è colpire! Occhio che stai con i piedi! Dai Mario! Buono! Sali! Sali! Passagli la guardia! Via da là! Passagli la guardia! Passagli la guardia! Via da là Mario! Passagli la guardia! Passagli la guardia! Passagli la guardia! Sali! Esatto! Mario! Leva! Buono! Stabilizza Mario! Stabilizza! Mario, voi vi devi lavorare con la bassa in una calma. Dov'eri far passare il giocchio! Ok! Grazie! Mario! Stabilizza e colpisci! Mario! Un minuto e me ne hai tu poi che ti fanno finire! Dai! Colpisci e stabilisci! Dai! Grazie a tutti, guarda, 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 guarda. Grazie a tutti, guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Grazie.